Andiamo a conoscere meglio i nostri giudici. Partiamo da Matteo Vanni che è laggiù. Allora Matteo sei co-founder di Gonzo Design principalmente operate in campo pubblicitario ma avete realizzato anche alcuni cortometraggi e dei videoclip musicali. Ci sono molte differenze tra lavorare sulla comunicazione di un'azienda e lavorare al servizio di una storia o di una canzone? Buonasera. Quando si parla di videoclip e spot pubblicitari prima di parlare delle differenze è bene parlare dei punti in comune che forse sono anche più delle differenze. Sono due tipologie di lavoro in cui si lavora per promuovere due in questo caso prodotti anche in campo musicale è giusto definirlo. Nello spot pubblicitario magari c'è diciamo un'interfaccia a volte quando si parla anche a livelli alti non diretta con il cliente ma più con l'agenzia pubblicitaria nel reparto marketing. Nel campo del videoclip essendo spesso l'artista protagonista del video c'è un'interfaccia diretta spesso anzi sono anche autori arrivano già con un'idea a volte su cosa vogliono gli artisti. Però ecco in entrambi i prodotti come dicevo prima sono entrambi dei prodotti da valorizzare cioè dobbiamo tenere presente che quando facciamo questo tipo di lavori lo facciamo per valorizzare quindi dobbiamo considerare sia dal punto di vista di sceneggiatura, di storytelling e tutto la valorizzazione dei prodotti. Poi in campo di videoclip essendo che il prodotto è un po' più artistico ci può essere diciamo qualche libertà in più ecco in campo pubblicitario siamo sempre comunque vincolati un po' da scelte di marketing o da insomma esigenze di brand quindi ci può essere qualche limitazione però ecco il focus è questo principalmente Tra i vostri clienti avete avuto modo di lavorare con dei grandi brand tra cui Fiat, UC Cinema e Anas Quanto è la tua passione per il cinema ti ha aiutato nel tuo lavoro? Indubbiamente più che un aiuto è proprio fondamentale ecco la passione per il cinema in questo mi ha aiutato nella ricerca soprattutto di un nel creare un qualcosa sempre che abbia una narrazione un che porti un qualcosa comunque un trasmettere ecco trasmettere che sia un'emozione un messaggio e in questo il cinema è fondamentale perché le storie che vediamo al cinema ci trasmettono sempre un qualcosa e questa è la cosa che nei lavori che ho seguito ho sempre cercato di portare cioè il comunicare sempre un'emozione un messaggio un qualcosa che partisse dalla narrazione da una storia Grazie Matteo ti faccio l'ultima domanda che cosa ti ha più condizionato senza stare a giudicare nei cortometraggi in concorso? Allora nei cortometraggi in concorso indubbiamente ho visto un altissimo livello tecnico in praticamente tutti i cortometraggi sia quelli più low budget che in quelli con più budget il livello tecnico era veramente alto sotto quasi ogni campo direi e oltre all'aspetto tecnico ci sono molti cortometraggi che sul lato anche narrativo sono stati veramente interessanti storie nuove sono riusciti a raccontare storie, emozioni che difficilmente a volte si riesce anche a vedere al cinema ho sentito proprio anche una vera autorialità in molti dei cortometraggi e questo è stato veramente, mi ha piacevolmente sorpreso Matteo ti ringrazio passiamo a Alessandro Perilli Ciao Ciao, buonasera Buonasera Senti, nel 2019 hai ricevuto il premio Tonina Colla il premio della stampa come miglior doppiatore te l'aspettavi? Sì sì, l'ho sempre sostenuto perché ho lavorato molto per quel premio, per due anni ho lavorato ma al di là dell'aspetto tecnico avevo lavorato molto mentalmente in realtà ti dico forse la differenza l'ha fatta proprio quello perché gli altri ragazzi insomma che erano candidati appunto alla finale erano tutti ragazzi che avevano un livello altissimo non è stata una passeggiata però forse è stata proprio l'approccio mentale in realtà alla gara che si è rivelato vincente sì, mi sono divertito molto senza avere ansia insomma quindi penso quindi l'aspettavi sì, giusto? sì, sì, assolutamente in pochi anni hai lavorato a moltissimi progetti di doppiaggio com'è prestare la voce a qualcuno e qual è stato il progetto che ti ha fatto dire amo questo lavoro? allora dare voce a qualcuno è sempre particolare perché si dà voce comunque ora mi odieranno per quello che sto per dire ma si crea veramente un falso in realtà noi andiamo a mettere la voce su un'interpretazione già esistente certo quindi in effetti più l'attore è bravo in realtà per noi il lavoro è molto più semplice rispetto magari a avere un attore un pochino meno bravo, meno espressivo da rendere italiano ecco quello è un po' la cosa complicata però è molto divertente, faticoso a livello mentale perché non c'è una preparazione a base il copione viene dato la mattina e lo si incide la mattina ah subito mai fare una lettura prima, nulla ci viene dato quindi un occhio legge l'altro guarda lo schermo è una roba un po' così quindi c'è molto divertimento a parità di fatica quindi lo rende sì un lavoro almeno per me che ne sono appassionato lo rende un lavoro piacevole il lavoro che ovviamente mi è rimasto più nel cuore è il primo lavoro da professionista perché mi sono ritrovato da avere il poster in camera insomma dei vari doppiatori a stare a Leggio con fortunatamente Cristian Jansante, Luca Ward, Emanuela Rossi nel mio primo lavoro e lì ho capito che ok non devo più pensare ce la posso fare in realtà lo sto facendo quindi anche se era un piccolo ruolo per me è il tuo più importante il primissimo proprio assolutamente ti faccio anche te una domanda riguardo i corti qual è quello che ti, cioè senza ovviamente dire niente, non facciamo spoiler che cosa ti ha colpito di più? sicuramente la qualità generale su tutto il numero delle opere insomma su tutti i cortometraggi c'è sempre stato almeno da parte mia una notazione positiva in tutti la qualità secondo me era molto alta infatti questo ha abbastanza influito su quello che era poi alla fine il mio giudizio davanti a quella scheda a volte ho dovuto fare un po' schemi e grafici per vedere chi poteva essere meglio, chi un po' peggio quindi non è stata una scelta facile in primis quindi la qualità assolutamente assolutamente, la qualità in concorso grazie Alessandro, grazie mille e passiamo a Daniele Favilli buonasera posso staccare questo? l'ho già staccato ecco, va bene sentite bene, è uguale? sì? ok, perfetto allora andiamo con la prima domanda come attore ha interpretato tantissimi ruoli sia nel cinema che nella tv ma qual è stato il momento in cui hai capito che volevi fare l'attore? il momento in cui ho capito che volevo fare l'attore è stato quando ero all'elementari ah, si parla proprio si, proprio all'inizio della vita nemmeno della carriera, proprio della vita mi ricordo che c'era la nostra insegnante, la maestra dell'elementari che si chiamava Franca me lo ricordo ancora che voleva fare una rappresentazione dell'Odissea ovviamente non tutta, io non ho idea di come lei l'abbia riscritto perché l'Odissea è un papiozzo gigantesco un'opera, insomma e mi ricordo che io volevo fare Ulisse e invece lei aveva scelto un altro bambino e sicché questa cosa era proprio tremenda per me il fatto che io dovesse interpretare tipo uno dei proci o un personaggio minore proprio mi uccideva Polifemo no, Polifemo faceva un bambino grosso e poi successe una cosa miracolosa fra l'altro la bambina che faceva Circe mi piaceva un monte perché io volevo avere le scene con lei e in pratica questo bambino che era stato scelto per fare Ulisse era un cane tremendo e lo sostituì e quindi siccome io ero tutto entusiasta alla fine lo feci io e questa cosa da lì ho sempre avuto questa passione per le arti recitative come per dire io quando vado al cinema o quando insomma anche prima adesso non si può per me è un'esperienza assolutamente coinvolgente si spenge la luce il film ti risucchia completamente è proprio una roba extraordinaria capito la possibilità di raccontare storie ovviamente devono essere storie ben raccontate affascinanti e tutto e niente partì da lì poi probabilmente c'è anche da dire che quando io ero piccolissimo mio padre per farmi addommentare mi raccontava le storie dei miti greci che io sono cresciuto con Bellerofonte Perseo e la Medusa Pegaso e quindi questa cosa di questi eroi che fanno cose incredibili mi ha sempre affascinato insomma è proprio piccolino comunque piccolino hai vissuto per un periodo a Los Angeles dove nel 2014 hai lavorato come attore e produttore per la realizzazione del film Vendetta e Redenzione con Jean-Claude Van Damme che cosa ci vuoi dire di questa esperienza? che praticamente andò così ora non per raccontarvi tutta la mia vita ma io ho vissuto un po' di anni a Roma perché a un certo punto da Firenze ti devi spostare dove c'è il giro diciamo più grosso e fra una serie di cose più piccole e più grandi per un po' sono stato nel cast di Un Posto al Sole quindi io stavo a Roma andavo a Napoli giravo poi tornavo a vivere a Roma e sono stato un personaggio anche abbastanza importante un annetto e mezzo quando il mio contratto è scaduto ho avuto un po' la sensazione che l'ambiente romano non fosse un po' non voglio dire ostile perché figurati io non ho idea però non mi bastasse abbastanza poi avevo già una trentina d'anni quindi avevo voglia di giocare delle carte si è sentito stretto anche lì quindi ho detto se voglio andare all'estero quando ci vuoi cioè bisogna che ci vada prima possibile sicché ho fatto un po' di ragionamenti un paio di anni di prima avevo conosciuto per casi strani Hugo Weaving che è un attore australiano che è l'agente Smith di Matrix il re degli elfi il signore degli anelli che viveva a Firenze ha vissuto a Firenze per un periodo sicché non sapevo dove andare volevo andare in Inghilterra forse a Sydney e poi ho detto vabbè ma come vai a Roma dov'è l'arena grossa dov'è il posto dove ci si gioca un po' tutto è Los Angeles che ho preso mi sono iscritto a un corso di recitazione e sono andato là e è successo che sono arrivato e non sapevo niente perché ovviamente è un mondo completamente diverso ci sono delle cose di cui non si sa nulla e infatti io vorrei trovare il modo di aiutare ragazzi che vogliono andare o da Firenze a Roma o dall'Italia agli Stati Uniti perché ci sono tante cose da sapere proprio organizzative che è fondamentale sapere che non si può arrivare così solo con la voglia di fare le cose poi io ho avuto un culo secondo me scusate il francese ma proprio fuori misura dopo dieci giorni sono andata a fare un provino e mi hanno preso subito quindi ho fatto il visto ho fatto questo primo film poi c'era questo progetto di questo film che in Italia è stato chiamato Vendetta e Redenzione secondo me è un po' un film strano è un titolo un po' strano il titolo originale era Swelter che vuol dire caldo torrido AFA uguale esatto era un film western è un western moderno però ho capito la presenza di Van Damme ti porta sempre in questi titoli un po' ti sfracello il cervello ti ammazza il potorno capito sta roba qua doppio impatto che va anche bene perché il problema è che Jean-Claude Van Damme non era il protagonista in questo film anzi faceva un personaggio che nemmeno picchiava nessuno picchia un po' in omea a un certo punto mi fionda dentro un bagno io gli spacco la tavoletta di cesso sulla testa è stato ganzissimo lavorato con lui non ci crede fra l'altro carinissimo super disponibile è successo c'era questa sceneggiatura questo progetto e io praticamente sono coproduttore del film che è un credito che mi è stato dato perché fondamentalmente io per un anno sono andato in giro alle feste a Cannes ai mercati a bussare a tutte le porte possibili se io ero in una festa e conoscevo uno te sei un produttore senti c'è un progetto e glielo picciavo in due minuti è successo che un tipo fra l'altro italiano Max Xertoc che è un amico c'è questo nome strano ma adesso siamo amici da tanto lui era in contatto con Gersh che è l'agenzia una delle agenzie più grosse di Los Angeles che aveva vari attori e Jean-Claude Van Damme si è interessato a questo progetto con lui abbiamo potuto fare le prevendite il film è stato costruito in un certo senso e io avevo questa cosa che un ruolo era stato scritto per me quindi è stata una bella cosa girare questo film l'abbiamo girato nel deserto al nord di Los Angeles nel cast c'è Alfred Molina che è il dottor Octopus di Spider-Man 2 di Sam Raimi c'è Lenny James che in realtà è il vero protagonista che ora non so il suo personaggio lavora in Walking Dead è stato ganzissimo ma proprio Hollywood era un film piccolo per gli standard diciamo comunque ti sei dato da fare tanto insomma sì lì è un posto la bellezza di lì è che è un mercato molto grande ok ovviamente ci sono dei livelli quindi c'è gli A-listers la lista A la lista B loro li chiamano proprio così ci sono livelli da film da 200 milioni da 50 da 30 da 20 fino al filmetto piccolino indipendente ma la cosa ganza è che essendo un mercato così grande che vende in tutto il mondo ci sono tanti spazi in cui entrare e poi forse anche per una mentalità diversa un'etica del lavoro loro il fatto che il cinema è fatto con investimenti privati fondamentalmente il produttore è intenzionato a valorizzare la persona che magari ha una qualche qualità per dire io per provino ho fatto un personaggio gigantesco in questa serie si chiama Torchwood Miracle Day è una serie di fantascienze inglese che hanno girato negli Stati Uniti e io sono andato a fare due provini sono piaciuto mi hanno preso cioè non è che è diverso comunque dall'Italia è diverso soprattutto hai più possibilità sembra questo non lo so perché comunque considera che c'è una mole di lavoro un mercato molto grande ma c'è anche due milioni e mezzo di attori c'è gente che viene dalla Finlandia dai Sudafrica dovunque la cosa ganza è che per esempio io per un periodo ho fatto personaggi italiani ok in Swelter per esempio interpreto un americano ho studiato l'accento per un anno ma la cosa è che se tu ci pensi se io fossi belga ok oppure americano oppure che ne so tedesco vengo in Italia e voglio e ho l'accento della mia lingua quindi se sono francese parlo così o se sono tedesco parlo così quanti ruoli ci sono nel nostro cinema per persone che hanno un accento di un'altra nazionalità praticamente zero se pensate ai film che escono le serie televisive che vengono fatte sono pochissime perché non c'è questo miscuglio di gente da tante parti del mondo mentre gli Stati Uniti per loro proprio natura hanno questa possibilità i personaggi sono di varie nazionalità con vari accenti è proprio una cosa che a loro secondo me loro lo fanno anche per business perché ovviamente sapendo che c'è tante minoranze fanno film per tante persone però è un'avventura ganza cioè io sono ancora in contatto con la Giù e non vale la pena provare rischiare fare perché no complimenti complimenti ti faccio l'ultima domanda starò più stretto perché se no 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 ti faccio una domanda che cosa hai trovato di interessante nei cortometraggi ok anche qui mi ci vorrebbe sempre a livello generale strigni favilli ok praticamente la cosa che mi ha affascinato tantissimo dei cortometraggi che ho visto dei 22 selezionati è che quando ho trovato il tentativo di raccontare qualche cosa di diverso ok da quello che magari nei film italiani normalmente si vede quindi ho trovato film anche di genere addirittura ce ne sono un paio che sconfinano nella fantascienza e in tutti questi racconti la parte emotiva il racconto dell'emozione dei personaggi era sempre molto credibile sempre molto forte ben scritta ben interpretata fra l'altro nella maggior parte dei casi ma soprattutto la cosa che mi ha colpito è che l'impianto della storia che veniva raccontata era assolutamente credibile cioè era ben sostenuto ci si stava dentro bene mi veniva quel risucchio solito che io avevo quando vado al cinema non c'era quell'idea ah vabbè un corto chissà che palle catturato catturato esatto mi hanno affascinato infatti nella scheda che mi hanno dato gli organizzatori le mie motivazioni sono lunghissimo ho scritto dei temi proprio speriamo che qualcuno la leggano vabbè allora passiamo adesso a Matteo Guasti e Matteo Carrai che sono qua buonasera ciao Ele parlo con te abbiamo un fila partiamo dal lì ci dividiamo un po' vi dividete le domande vi dividete le motivazioni ok allora com'è nato e la bella volevo tenere una mascherina per nascondere gli incidenti domestici però vabbè pensavo fosse un pezzo della mascherina che era rimasto attaccato no in realtà è un pezzo di naso che non è rimasto attaccato tra l'altro volevo dire qualcosa tipo a scazzottata le bronx insomma volevo fare invece un gatto quindi com'è nata la bella studio e di cosa si occupa allora la bella studio di cui siamo rappresentanza è nata 11 anni fa è una struttura che è stata creata per la produzione di musica per supportare la creazione di musica è nata come studio di registrazione piuttosto grande molto professionale eccetera eccetera negli anni però si è specializzato anche in altri settori facciamo è diventato un centro formativo per tecnici del suono quindi chi viene lì impara a fare il tecnico del suono e da un po' di anni siamo diventati come sai da nota frequentatrice anche sale prove vero quindi abbiamo delle sale prove facciamo facciamo diciamo che è un centro dove si scambiano molti artisti è sempre frequentato da gente che fa musica insomma siamo viviamo immersi tra i musicisti che insomma lo consideriamo bene perché è una cosa che ci piace siamo quelli un po' più off topic perché doppiatori Van Damme attori siamo un po' fuori quindi no no invece senza la parte tecnica anche Van Damme la parte tecnica la parte musicale le conone insomma c'è tutta una serie di cose che comunque vedremo dopo Matteo Guasti grazie quindi passo a ah vabbè allora rimaniamo su di te come produttori in campo discografico qual è stato il progetto che vi ha dato maggior soddisfazione allora abbiamo una magari sono diverse non so fra voi due la maggior soddisfazione per uno e per l'altro sono diverse io magari dico la mia te dici la tua Matteo Guasti vai diciamo ci colleghiamo abbiamo un'etichetta discografica specializzata principalmente in canzone italiana generalizzando e siamo relativamente piccoli però abbiamo avuto un paio di artisti che ci hanno dato soddisfazioni e speriamo ovviamente di averne anche di più quando sarà possibile ovviamente e quelli che ci hanno dato più soddisfazione probabilmente sono stati qualche anno fa c'è Quecipo che sono due artisti delle nostre parti perché principalmente coltiviamo tra virgolette artisti della nostra zona perché insomma non per campanilismo ma perché ci piace insomma crescere la nostra comunità vediamo se uso parole ultimamente poi abbiamo avuto un altro cantautore che ha avuto un discreto una discreta risonanza nazionale che si chiama Postino in ambito indie pop chiamiamolo così anche se è una parola un po' un po' strana cioè più che altro un po' indefinita che tra l'altro è stato un caso un po' particolare perché era un laureato in medicina che è uscito con un disco che ha avuto un discreto successo ha fatto insomma follower milioni di ascolti eccetera tutti quei numeri che vanno tanto di moda oggi in tutti i settori e si è ritirato dalle scene per fare la specialistica in psicologia e quindi insomma ha lasciato ora per quattro anni le scene quindi insomma ha fatto una scelta che per chi sta dentro la musica è risultata un pochino forte in realtà per lui che sta dentro la medicina probabilmente è stata una scelta un po' più facile perché insomma la carriera in dottore soprattutto oggi è un po' più facile di quella non che sia più facile però insomma oggi come oggi fare musica è un po' è un po' difficile abbastanza ok ora parlo anch'io sì per ricollegarmi a lui io sono entrato un po' dopo nella società proprio la bella quindi tutto il periodo c'è che c'è poi l'ho vissuto poco collateralmente diciamo quindi l'ha già spiegato lui com'è la dinamica dell'artista però comunque è postino anche perché è quello che diciamo ha avuto un po' più risonanza quindi ha dato un po' più soddisfazione ok e ora come ora purtroppo è difficile avere artisti che funzionano perché purtroppo il panorama è quello che siamo un po' parcheggiati fino al nuovo ordine quindi niente purtroppo questo è vero comunque insomma state d'accordo alla fine sì sì si va d'accordo si va d'accordissimo si va d'accordissimo non è poco vi faccio volevo mettere la felpa uguale a lui poi si sembrava gli umpa lumpa allora ho detto cambiato il merchandising vi faccio l'ultima domanda secondo voi eccoci qua quanto la colonna sonora può incidere sulla buona riuscita di un'opera cinematografica rispondo io vai così se no ho parlato sempre lui non le dico qualcosa neanche io ma per rispondere a questa domanda si potrebbe fare anche degli esempi se prendiamo anche insomma al grande cinema storico mi risulta anche difficile pensare ad alcuni film che sono diventati passatemi termini epici come lo squalo o star wars se non avessero avuto quella colonna sonora lì come sarebbe stato sicuramente sarebbero stati dei grandi film però non sarebbero magari epici come lo sono questo a livello un po' generale a livello un pochino più specifico secondo me e quello è il mio parere la colonna sonora deve avere la funzione di dare un qualcosa in più quindi è importante capire il film specialmente anche nel diciamo nella vita di tutti i giorni pensiamo alla colonna sonora come qualcosa che accompagna o valorizza qualcosa quindi se mi immagino un film è molto dark molto oscuro se ci mette una canzoncina allegra molto probabilmente non è adatta se invece ci mettiamo una colonna sonora che diciamo arricchisce e può ancora di più entrare in quel mood passatemi termini inglesi anche questo uso termini ormai vanno di moda funziona se capisco va benissimo praticamente secondo me la funzione che deve avere la colonna sonora è quella quindi importanza ne ha tanta non ne ha poca in alcuni casi alcuni film magari sono se potevano valere otto se dobbiamo andare a numeri con la colonna sonora sono arrivati a dieci certo e magari alcuni film che potevano arrivare a valere dieci sono diventati sei perché magari c'era una colonna sonora che non era proprio adatta non era adeguato per caso di stare sintetico spero si 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 anche molto molto chiaro e allora io vi ringrazio Matteo e Matteo grazie a tutti Matteo Guasto e Matteo Carrai allora passiamo al nostro Simone Giorgi buonasera allora vado con la prima domanda per anni hai calcato la scena musicale fiorentina ma cosa ti ha portato a lavorare come tecnico del suono e sound designer io sono figlio degli anni 80 e sono nato in un periodo particolare perché c'è stato un cambio tecnologico importante che è stata una fortuna in realtà perché noi gruppi che sonovamo delle cantine avevamo la possibilità invece di andare in studi costosi poter cominciare a approcciarsi alla registrazione e c'era già la possibilità di approcciarsi alla registrazione digitale e quindi per esigenza poi dopo è diventata un lavoro e dopo una passione e negli ultimi anni mi sono spostato nell'ambito quindi hai fatto proprio sì ho fatto il giro hai fatto il giro ho fatto il giro sì sì comunque è partita una cosa di esigenza sì è nata come un'esigenza perché era un costo andare in uno studio i project studio l'home recording era proprio in una fase embrionale e quindi andare in uno studio di registrazione era un costo importante se non avevi una produzione dietro e comunque potevi metterti in gioco andando a smanettare le nuove tecnologie che stavano uscendo poi negli anni in realtà la tecnologia è andata avanti i costi sono molto più contenuti e quindi sono molto più alla portata di tutti anche raggiungere un livello di qualità diciamo sufficiente diciamo altra è sufficiente è più facile è più facile rispetto a prima rispetto a prima questa cosa ha comportato diciamo è una cosa positiva però ha anche saturato un po' il mercato e infatti nella valutazione dei lavori sono andata a cercare quel quid che può dare in più il professionista è una cosa che sfura quasi più nell'arte più che prettamente nell'aspetto tecnico è proprio una sensazione di immersione che va oltre il tecnicismo pur ho capito ho capito e vabbè quindi ok questo mi hai già risposto diciamo a un'altra domanda che salterò no no bravo comunque ci hai conciso hai espresso benissimo qual è stato invece il progetto su cui ti stai sentito veramente soddisfatto proprio come tecnico del suono come tecnico del suono in realtà il progetto che mi sta dando soddisfazione lo sto facendo ora però non ne posso fare perfetto è un top è un top è un top secret è un top secret è un top secret sì il cielo come musicista allora come musicista giusto come musicista è stato molto bello partecipare a uno dei laboratori paralleli a Sanremo nel se non sbaglio 2007 era l'edizione quella con Bonolis abbiamo sono andato davanti alla commissione c'era il direttore artistico che a tempo mi sembra fosse rustici e Bonolis è stata commissione complesso ma davo ciao